Il decreto Romani distingue tra la diffusione al pubblico di contenuti audiovisivi cosiddetta lineare dalla diffusione al pubblico di contenuti audiovisivi on demand. In realtà questo tipo di distinzione contenuta nelle definizioni del decreto non si ripercuote in maniera significativa poi sulla disciplina applicabile in quanto per l'esercizio dell'una e dell'altra attività è sempre richiesta un'autorizzazione da parte dell'autorità per le garanze delle comunicazioni, autorizzazione le cui modalità di rilascio andranno poi stabilite con il decreto che la stessa autorità dovrà emanare entro il 30 giugno.